Continuano le segnalazioni in redazione da parte dei cittadini che oggi ci portano a Monte Schiantello, in via Camminate. Comunicazione del signor Mario Morbidelli che ci evidenzia lo stato di abbandono del manto stradale costellato di buche che rendono difficile percorrere il tratto. Si richiede pertanto l'intervento del comune per il risanamento stradale. Qual è il problema di questa strada? Dissestata e abbandonata, perché è quattro anni che non viene a fare più niente, è quasi un anno che ho fatto la segnalazione in comune, non si è risolto niente. Ho telefonato dal sindaco, mi ha risposto la segretaria, mi ha detto che era in riunione, io ho chiesto per piacere, avvisalo lei al sindaco, non si è visto nessuno. Secondo lei quali interventi dovrebbero fare per sistemare la situazione? Fare le cunette e poi chiudere le buche all'acqua. Le cunette laterali che è l'acqua da correre sui fianchi, non per tutta la strada, corre in termesco la strada, corre. Anche gli altri cittadini si lamentano di questa situazione? In questa zona si lamentano tutti, i cittadini anche qui che li attraversano nella strada, da che vanno a camminare a San Costanzo si lamentano, mi dicono com'è che non ne fa niente. Quali sono i problemi che causa questa strada? I problemi io non ne so, ma comunque la strada è abbandonata. Come hanno abbandonato la zona, hanno abbandonato anche le strade. Alla strada è adesso. Grazie a tutti.